laudetur jesus christus cari amici tedeschi ascoltatori e per luigi bianchi cagliesi che vi parla oggi 21 gennaio 2021 per il nostro commento del giorno mai vedete come in questo momento storico in particolare ma questo vale per ogni uomo e per ogni persona a prescindere dalle situazioni contingenti ma soprattutto direi in questo momento la riscoperta della virtù dell'umiltà se vissuta soprattutto con consapevolezza e convinzione divene il più efficace antidoto proprio alle pericolose derive che rischiano ogni giorno e trascinarci in un vortice di pericolose contraddizioni e poi anche di posizioni incoerenti di vita vedete che in questa cultura dominante dell'ego dell'auto referenzialismo e dell'uomo come artefice di tutte le grandi delle grandi vittorie dei grandi cambiamenti delle grandi prese di posizione e anche del del pensiero che in qualche modo si vuole imporre si sta assimilando sempre di più soprattutto nelle nuove generazioni ma anche gli anziani che spesso sono diventati sempre più capricciosi esigenti teleguidati soprattutto a causa del loro passare ore intere ininterrotte davanti alla televisione stanno trasformandosi appunto in una nuova realtà in cui l'immagine dell'uomo diventa sempre di più la misura di tutte le cose dimenticando ovviamente che l'umiltà rimane una virtù fondamentale soprattutto dicevo inizialmente in questo passaggio storico decisivo e si parla tante volte di umiltà la si predica anche si descrive molto bene a livello teorico ma poi spesso nella vita concreta non la si vive come si dovrebbe e oggi appunto l'umiltà sembra diventata una virtù dei bei tempi che furono legata alla stagione tramontata dei buoni sentimenti ma l'umiltà vedete rimane la virtù fondamentale della santissima vergine senza la quale vedete i rischi che noi corriamo si moltiplicano il giorno di più pensate che l'etimologia di questa parola dell'umiltà deriva proprio da humilis e dal latino humus no l'umus e la terra rimanda la terra a qualcosa di basso di non importante che a tanti suona come una connotazione con una connotazione decisamente negativa ma al contrario vedete chi è umile e invece forte perché nel riconoscere i propri limiti e la propria pochezza di fronte a dio e non confidando mai su se stesso ma odicamente su colui che è la via la verità e la vita divenne progressivamente sempre più forte sembra una contraddizione ma la forza la determinazione il coraggio anche la coerenza risiedono proprio in questa virtù fondamentale della dell'umiltà e quindi si è tanto più fedeli alla verità e tanto più coraggiosi nei momenti difficili quando tanto più lo si è umili e l'umiltà vedete ci dà la forza dicevo nella difesa della verità con costanza e con capacità di non fermarsi di essere instancabili come un pesce che sfida la corrente e la pratica consapevole cioè nell'essere convinti profondamente di non essere nulla di essere servi inutili di essere veramente solo servitori di una causa più alta di colui che è la via la verità e la vita sfida oggi frontalmente questa visione egocentrica che è proprio la cultura dominante del mondo attuale che è costruita vedete su contorcimenti mentali su doppiezze sui sotterfuggi i retro interessi e questa virtù sfida vedete una visione del mondo costruita su un perverso senso della vita in cui il successo la palma della vittoria di diventare personaggi importanti noi questa illusione del potere del successo è riservata vedete solo in realtà questa visione a quelli che ambiscono diventare persone potenti che poi sono in realtà prepotenti arroganti coloro cioè che hanno messo i propri interessi al primo posto persone che vivono nel desiderio di ottenere tutto e subito prive di ogni riferimento ad una cultura del dovere del sacrificio dell'onore dell'ordine persone che sono disposte a calpestare tutto e tutti senza alcuna remora invece vedete coloro che coltivano la virtù dell'umiltà che è la principale prerogativa della santissima vergine ritengono sinceramente consapevolmente di essere bisognosi dell'aiuto di dio di essere bisognosi della sua intercessione costante e continua come diceva san filippo neri chiedendo al signore di mantenerci le mani sulla testa per rimanere fedeli la sua volontà e corrispondere fedelmente ai piani che la provvidenza di dio sta ben stabilito per ciascuno di noi non contando mai su noi stesso sulle nostre risorse che non esistono perché sono fugaci e fallaci e però vedete in uno spirito di sottomissione totale la volontà di dio disposti a tutto pur di servire disinteressatamente il signore anche quando la volontà di dio non coincidesse perfettamente con quelle che sono le nostre opinioni personali la nostra visione la nostra diciamo in quella che immaginiamo la soluzione perfetta dei problemi che abbiamo vedete che la bellezza e l'umiltà è qualcosa di straordinario perché una persona umile e nobile e nobile nel senso più profondo del termine perché è capace anche di abbassarsi di proposito per mettersi allo stesso livello di chi sta davanti o addirittura per far emergere il prossimo annullando se stesso esaltando le qualità del prossimo mettendo in secondo ordine le proprie ricordiamo come i santi tutti i più grandi santi erano perfettamente al loro agio tanto con i potenti di questa terra quanto con le persone più umili e regliette abbandonate disprezzate cari amici l'uomo veramente umile esprime una statura morale di un'elevatezza incredibile un'elevatura vedete che comprende gli altri preferisce mettere in evidenza le doti di chi sta di fronte non le proprie nel servizio comunque sempre alla causa di di Dio è la verità l'umile poi sapete è colui che sa che le sue qualità che lui può avere che può aver sviluppato e che non deve assolutamente enfatizzare evidenziare sono però ben conosciute da Dio e sarà proprio il Signore quando vorrà e lo riterrà a farle emergere risplendere nella loro grandezza ma il Signore farà emergere le virtù di coloro che sono umidi proprio per esaltare questi tromboni potenti di questo mondo e per mettere in evidenza come proprio nella virtù dell'umiltà il Signore esalta invece la grandezza di coloro che si sono umiliati abbassati soltanto per non credere mai di essere chissà cosa ma servire invece umilmente la causa di colui dicevamo che è la via la verità e la vita e tanto più e tanto più vedete noi ci umilieremo come nella preghiera del magnifica tanto più nasconderemo i nostri talenti nasconderli nel senso di non farli emergere per apparire grandi e importanti tanto più il Signore un giorno li esalterà come ricompensa per la nostra fedeltà questo è il senso profondo vedete magnifica in cui si dice che il Signore appunto abbassa i potenti di questa terra per esaltare gli umili e in questa virtù dell'umiltà vedete ritroviamo proprio l'essenza di quella che è la virtù principale della Santissima Vergine senza la quale vedete se noi non raggiungiamo questa virtù dell'umiltà è impossibile poter vivere in sintonia con lo Spirito della Santissima Vergine ed essere ammessi ad accedere al suo cuore immacolato questa ricerca dell'umiltà che dobbiamo chiedere sempre di più che dobbiamo soprattutto vivere che auguro a tutti voi cari amici di dei radioscoltatori una buona giornata laudetur jesus christus grazie a tutti